Le ultime notizie riguardanti i famosi ex Ferragnez stanno tenendo tutti con il fiato sospeso. Dopo un periodo di assenza dai social, Fedez è tornato alla ribalta con una presunta nuova fiamma vittoria, che però ha smentito categoricamente qualsiasi coinvolgimento con il rapper. Nel frattempo Chiara Ferragni è al centro di clamorose indiscrezioni. Pare che la famosa influencer sia incinta. Fedez dopo un lungo periodo di assenza da Instagram è riapparso pubblicando una storia per festeggiare il successo di Sexy Shop insieme a Amy Schilla e condividendo un video di un'esibizione live con Nicki Savage. Tutto sembra essere tornato alla normalità per il rapper di Rozzano, che ha fatto felici i suoi fan con queste nuove pubblicazioni. Nel frattempo su Chiara Ferragni circolano voci inquietanti. Il settimanale diva e donna ha rivelato che l'influencer potrebbe essere incinta, basandosi su alcune foto che mostrano un leggero gonfiore. Secondo la rivista di Gossip, Chiara sarebbe stata fotografata a Milano dopo aver visitato una clinica ostetrica insieme alla madre. Tuttavia non ci sono prove concrete che confermino questa notizia e servirebbero ulteriori conferme da fonti vicine alla Ferragni per dissipare ogni dubbio. La situazione è in continua evoluzione e non resta che attendere nuovi sviluppi per scoprire la verità su queste vicende che tengono tutti con il fiato sospeso. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su Fedez, Chiara Ferragni e le ultime...